Eccoci qui amici dalle spettatori, siamo sempre e naturalmente nella rubrica dei cuori solitari e questa sera mi trovo a Mazzara appunto per intervistare un altro cuore solitario ve lo presento subito, ciao Buongiorno, è Sala Sala Francesco Ti chiami Francesco per ovviamente Francesco, ascolta, quanti anni hai? 53 53 anni, e sei naturalmente di Mazzara del Vallo Sì E tu caro Francesco sei in cerca dell'anima gemella? Sì Di una donna ideale, giusto? Francesco dimmi, tu sei singolo, sei impegnato con qualcuno, no? No, no Sei completamente singolo Era una volta fidanzato un quattro anni indietro Cosa? Quattro anni indietro aveva fidanzato Cioè quattro anni fa tu praticamente stavi con una ragazza Cioè una ragazza Quanto tempo sei rimasto con questa ragazza tu? Eh, un tre mesi Un tre mesi, e come mai voi vi siete lasciati? Eh, perché non ero più d'accordo Non siete andati d'accordo e quindi praticamente È troppo lassato Vi siete lasciati E ora quanto tempo è che sei solo? Quattro anni Quattro anni Eh, una quattrina d'anni Che sei completamente solo Non esci con nessuno, non frequenti nessuna donna No, amici No, no, amici Sì Ascoltami Francesco, tu lavori? Sì Che lavoro fai? Io segnaletiche Segnaletiche stradali? Certo Sempre qui a Mazzara del Valle Sì Quindi hai un bel lavoro, sei motorizzato, la macchina ce l'hai? La macchina? No No Il motore sì? Il motore sì Sì, la bici pure? La bici, motore Quindi ti puoi spostare? Giusto? Sì Che genere di donna vai cercando? Ah, io cerco una ragazza che diamo l'accordo Hai preferenze per quanto riguarda donne, no? No Bionda, bruna per te è lo stesso? No, no, no Bionda, bruna, lo stesso Cioè basta che di sesso femminile per te va bene? Sì Giusto? Sì, sì La vuoi separata, libera, come la vuoi? Ma non c'è separata o libera o diversiato Basta che ti faccia compagnia? Tu hai 53 anni Sì Giusto? Sì Quindi dobbiamo cercare una ragazza che abbia Da quanto? Facciamo da un 35 a salire? Una quarantina Dai 40 Quindi amici telespettatori? Una quarantina Amiche telespettatrici soprattutto Cerchiamo una donna dai 40 fino ad arrivare a? A 40 A 45, massimo Da 40 a 45? Sì Eh, va bene Quanto sei alto tu Francesco? Un metro e cinquantacinque Quindi sei un metro e cinquantacinque Quanto pesi? 52 52 kg? Sei leggerino, la piuma sei Complimento Ma io uso la biglietta di corsa Ah, ok Faccio allenamento con la biglietta di corsa Ah, quindi praticamente come hobby tu praticamente Quando sogno libero faccio sport con la biglietta Ho capito Ti dai alla corsa praticamente Eh? Va Ascolta Allenamento Francesco, la musica ti piace? Sì Te l'ascolti spesso? Sì Che genere di musica ascolta? Ma tu è napoletano Napoletano Il tuo cantante preferito è napoletano? Eh Eh? Ce ne sono assai Ce ne sono assai Mi piacciono quasi tutti Basta che è canzone napoletana Eh? Giusto? Sì Va bene Francesco, che cosa possiamo dire? Le telespettatrici in questo momento ti staranno guardando Se ci sarà qualche ragazza interessata a te sicuramente ti chiamerà Che cosa vorresti dire? E per queste telespettatrici che in questo momento Eh? Stanno ascoltando queste interviste Telefonateli Eh? Telefonateli Se ne è poi E poi Non so, un messaggio particolare Qualcosa Eh? Calcola che in questo momento ti stanno guardando Eh Dai Che addio Eh una bella Forza Francesco Ti stanno guardando Dai Che addio Che prega Sei emozionato? Non ti preoccupare Un poco Eh? Un poco Eh? Telefonate Telefonate Io aspetto Lui aspetta Per cui amiche telespettatrici Francesco ripeto 53 anni di Mazzara del Vallo Voi lo vedete E diciamo Un uomo abbastanza Cioè Alla mano Pesa poco Per cui automaticamente È facile da buttarselo dietro E se avete bisogno Insomma Di mettervi in contatto Con Francesco Ripeto 53 anni Chiamatelo Al suo numero telefonico Che state vedendo Insomma Impressione Francesco è qui Si vuole sistemare Per cui amiche telespettatrici Telefonate Possiamo dire altro Francesco No 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 Per la rubrica Dei cuori solitari Alberto vi saluta E vi saluta pure Grazie Francesco Ciao Saluta le telespettatrici Ciao Oh yeah